Ragazzi, oggi video un po' particolare Avevo intenzione di non farlo mai questo video Però ho detto, dato che ce l'ho e non l'ho mai fatto Proviamo un po' a giocare Pokémon Avventura tra i tasti È un gioco dove si usa appunto questa tastierina Che tra l'altro sta storta, quindi mi toccherà giocare storto Ehm... È interessante a dire il vero L'ho provato per 3 secondi Bene, quando ho detto appunto Meglio farci un video perché sta cosa è delirante Per darvi un'idea L, K, H, A Barra inversa Barra inversa Questo è ciò con cui mi diletterò oggi E con cui delizierò il vostro apparato uditivo e visivo Abbiamo già la professoressa Ehi tu con quella tastiera Sei qui per darci una mano con la nostra ricerca sui Pokémon Siamo felici che tu sia qui Sono Rina Tastier Un membro speciale del circolo di dattilografia Capito? Rina Tastier Se no era tastierina Lavoro come assistente per uno studio sui Pokémon Così a caso Sono assistente Ok, vediamo un po' Se è maschio o una femmina Sono maschio Almeno stamattina ero maschio Preferisco questo stile Vai così vai Tra l'altro questa tastiera ragazzi È minuscola Mi ci sto trovando malissimo Perché ho le mani Crosse Sono mani normali in realtà Però è fastidioso avere una tastiera piccola Tra l'altro Devo guardare dove devo premere Perché se no non mi ci trovo D Ok A L Dov'è L F Eh F Infatti per me che sto giocando a sto gioco J No sto cercando di andare senza guardare Ma è impossibile Ho accentata Ancora Ok punteggio massimo Quindi ho Finito Ho vinto Risultati Nuova posizione in classifica Medaglia di bronzo Mamma mia ragazzi Medaglia d'argento Medaglia d'oro Adesso è un nuovo titolo Così così Ma ho fatto il punteggio massimo Perché così così La cosa interessante è che puoi giocare anche senza tastiera Quindi se volete recuperarlo per la vostra collezione Tanto stava a 5 euro con la tastiera Quindi non è che Costa tanto Riviera della X Quindi praticamente facciamo tutti quanti i tasti su questa linea Ah no sopra Perché allora X Ma che cavolo Ma che significa Vabbè Siamo fuori di coccia voi R I I W P Fastidio Catena di 3 Catena di 5 Eh E I Cribbio Sono felicissimo di questa Vedete quanto è divertente sto gioco Divertente come un dito in un occhio Dio Ma finché non la premo non va avanti Ma quanto è furbo sto gioco Sono riuscito a cannare due volte lo stesso livello Vi rendete conto? Mi tocca guardare per forza Non ci riesco senza guardare Già che mi sbaglio pure con quella normale Quindi ci guardatevi con questa E non è una scusa Quindi punteggio massimo con una catena di 20 e 25.300 Risultati Ho provato a premere altri tasti E mi fanno un po' ancora esplorare quella zona Vabbè andiamo sulla D Dick pick Perché sarà più difficile Primo turno Per premere U Ah ok Ah quindi va a tempo Giustamente C'ha anche ragione Per carità Secondo turno Eh H H F G Sono bravo ragazzi Sono bravo I lunga J No I lunga Animale R Ah neanche te la conta la doppia Bravissimi Campioni Terzo turno Via M N N B V G F H F G No dai Ma c'erano ancora Ma c'erano Ma c'erano ancora C'erano L'ho premuto Ma perché Ma era tolte Ma perché Era tolte Se c'erano ancora Ma dai Ma non è giusto Ma stai migliorando A vista d'occhio Ma mi togli le lettere La C E la barra Spazio Spazio Oh Facciamo questo Poi Diavolo Sto gioco Accidenti a me I Dai I U Ah questi rotolano Quindi è difficile C Catena di 3 C S Catena di 5 M T Z X S H D D R R Catena di 15 T Y D L Catena di 5 Ah che tua madre La bravissima signora Ha sempre le frittelle Più buone del mondo Catena di 5 Catena di 5 O V K Catena di 10 I Lunga R T X O Precisione e velocità Q X V Catena di 20 Eh Potevo anche evitare di sbagliare Uno per uno per uno Che ho sbagliato Il mio sogno è studiare Pokémon più rari del mondo Ti piacerà lavorare con noi La Dattilo Ball Attenzione Uno strumento utile per raccogliere informazioni No non è Non ho detto utile Ce l'ho messo io Per usare la Ball ti basta soltanto citare il nome del Pokémon che vuoi studiare Anche quelli che non ho Ah le prime due lettere Eh ragazzi però ora mi chiedete troppo eh Cioè io sono A un certo punto arrivo Non lo so Iniziamo Quindi che vediamo Chi è? Ah Deerling Bene Dartwig Non era nei patti Dartwig Non c'era Dartwig Non era nei patti Chi è prossimo? Ok Deerling Ah ti fanno il trabocchetto eh Facendo finta che sia Di un altro colore Dice Ah non è Deerling Invece sì Dannati Ma dove pensate che ho giocato io? Ehi Oh questo è Sosbuck Sì Riconosco i miei polli I miei Pokémon Ex you maledetto No Govish Govish Da dove? Ma dove è Shrubish? Dove era? Chi è questo? Sì guadolo Quanti anni è che non lo vedevo Shrubish Da nulla Oddio Pidou Snover Eh Dai cinque Le catene al collo Te le metterei Poi ti butterei in acqua Ste cose non le potrei dire su Twitch Ehm Ok Bene Io penso che Quando arrivi al punto Che ti incazzi per uno Shrubish È tempo di smetterla C'è anche chi ha fatto tutta una serie completa Non so come ha fatto a resistere Quindi direi che questo qui non è a livello di Pokémon Link o Pokémon Trozei Che dir si voglia Quello proprio raggiunge vette di vomito inerrabili Lo odio con tutto me stesso Nonostante ce l'ho in collezione Perché Ehi ragazzi Sto fanno i Pokémon Voglio proprio forza averlo in collezione Quindi Mi dispiace di avervi rovinato la giornata Eh Ci vediamo alla prossima